Quali sono le migliori impostazioni per utilizzare Canon EOS 5D Mark IV? Questa è una domanda che mi hanno fatto in molti. Qualcuno mi ha fatto la stessa domanda per quanto riguarda Canon EOS 5D Mark III. Ora, purtroppo, dico purtroppo, io non ho in mio possesso una Mark III, quindi andrò a farvi vedere le impostazioni che uso sulla Mark IV. Per nostra fortuna, molte delle impostazioni coincidono al 100%. Ci sono delle grosse differenze sul sistema di messa a fuoco, quindi quello è un altro paio di maniche. Ma non andrò neanche ad approfondirlo troppo, perché quello che andiamo a vedere sono le impostazioni del menu. Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Cesare e oggi parliamo di fotografia in particolare con Canon EOS 5D Mark IV. Se questa è la vostra prima visita, molto male, vi devo invitare a iscrivervi al canale attivando anche la campanella in maniera tale di non perdervi i prossimi contenuti. Molto bene, eccoci qui in compagnia di quelli che molti potrebbero considerare la fotocamera perfetta. Andiamo ad azionare il menu e cominciamo a vedere che cosa possiamo fare con questa fotocamera. Allora, la prima cosa che andiamo a vedere ovviamente è la qualità d'immagine. Come sempre io ho impostato RAW e niente JPEG. Questo perché mi interessa avere la massima qualità possibile, non sono minimamente interessato ad avere una coppia di scarsa qualità che mi occupa spazio sulla memory card. Questa fotocamera ha il dual card slot che io non utilizzo, utilizzo una memory card sola, non ho, come già detto in altri video, nessun interesse ad avere dei doppioni e mi fido delle mie memory card perché in dieci anni non ho mai avuto un singolo problema che fosse uno e quindi tendo a continuare a lavorare in questa maniera. Dual pixel RAW, in questo caso è una feature che io tengo disabilitata perché mi va a incrementare il peso delle immagini. Inoltre è una funzione che andrebbe utilizzata in dei contesti ben specifici che non vado a esplorare nel corso di questo video, se no diventerebbe veramente infinito. Vi basti sapere che la maggior parte delle volte lo tengo spento. Image review due secondi e questo ci sta perché così quando vado a scattare un'immagine la vedo sul display per due secondi. Se non mi interessa non la guardo, ma nel caso mi interessasse la vedo prima che scompaia automaticamente. Bip, in questo caso è attivato, io adesso vado a toglierlo perché il bip normalmente è una cosa che io lascio attiva nel momento in cui ho appena preso una fotocamera, poi quando prendo confidenza lo tolgo perché a quel punto non mi serve più. Release shutter without card lo tengo off perché in questa maniera se non c'è la memory card inserita mi viene impedito di scattare e questa è una sicurezza in più perché così se ho dimenticato di infilare la memory card me ne accorgo immediatamente. Lens aberration correction, ecco conoscendomi io questa la tengo sempre off perché su una macchina come questa con una lente come quella che ho installato che è il 24-105 serie L, tutte queste cose servono a poco e preferisco farmele a mano in post produzione se proprio le devo andare a fare. External speed light control serve a controllare nello specifico i flash che noi andiamo a far funzionare in combinata con la nostra fotocamera, ora non ce n'è nessuno collegato per cui non vi faccio vedere adesso questa funzione. Passiamo alla seconda voce di menu, ora qui la prima voce che vediamo è il bracketing che mi è tanto caro. Nel momento in cui entriamo vedete che possiamo andare a decidere quanti sono gli stop di bracketing che andiamo a impostare, gli diciamo ok e in questo modo la fotocamera eseguirà tre scatti, uno con l'esposizione a zero, uno sovraesposto di tre stop e uno sottoesposto sempre di tre stop. Quando vogliamo eliminarlo torniamo all'interno di questo menu, lo riportiamo a zero e gli diciamo ok. ISO speed settings, ora ISO 100 sono gli ISO che sono attualmente impostati sulla fotocamera. Range for stills significa lo spazio ISO consentito per le fotografie, quindi in questo caso andiamo da un minimo di 100 a un massimo che io potrei espandere a 51.200 ma non mi interessa perché a quel punto le immagini sarebbero inutilizzabili per cui lo lascio così, mentre nel caso la stessi usando in modalità automatica, cosa che non succede mai, arriverebbe solo fino a 6400. Possiamo anche impostare uno shutter speed minimo nel caso andassimo a lavorare in modalità automatica. In questo caso a me non interessa perché non lo userò mai però potrei andare a impostare un sessantesimo così per sicurezza se mai lo dovessi utilizzare rimane impostato in questa maniera. Auto lighting optimizer ovviamente è off, white balance in questo caso io avevo impostato manualmente 5000 kelvin e vi dirò che non ho la minima idea del perché. Adesso vado a impostare 5400 che è la temperatura colore che utilizzo abitualmente quando faccio video e lo lascio impostato in questa maniera. Normalmente non vi dico di non usare auto white balance, io lo uso auto white balance però lo uso in certi casi dove so che posso usarlo senza correre rischi. La maggior parte delle volte soprattutto se devo fare video o se lavoro in luce controllata imposto manualmente la mia temperatura colore così da non dover fare post produzione aggiuntiva. Custom white balance non lo utilizzo mai, questo significa andare a scegliere una foto già scattata e utilizzare i parametri di quella foto per stabilire qual è la temperatura colore delle prossime immagini che andremo a realizzare. White balance shift, questo non lo tocco mai perché va proprio ad agire sui parametri interni della fotocamera per andare a bilanciare il colore, non lo faccio, la lascio così com'è e casomai lo faccio in post produzione. Color space, adobe rgb contro srgb, questo vale solamente se scattiamo in jpeg e io lo lascio su adobe rgb perché non si sa mai. Picture style standard, qui ovviamente abbiamo tutta una serie di opzioni tra cui scegliere, io lo lascio su standard tanto scattando quasi sempre in raw poi la differenza la vado a vedere in post produzione. Long exposition noise reduction, io lo lascio off perché questo come già detto in altri video è una funzione che permette di andare a mitigare il rumore quando si scatta con delle esposizioni molto lunghe ma ci mette tantissimo tempo quindi lo lascio off e preferisco farlo a mano in post produzione. Noise reduction per ISO alti, anche questo lo lascio off perché non voglio che lo faccia direttamente la camera preferisco decidere io di quanto farlo vedendo bene l'immagine a monitor una volta rientrato a casa. Dust delete data, tutte queste sono cose che io non uso. Esposizione multiple e HDR, queste sono due funzioni speciali che una volta abilitate ci permettono la prima di scattare due foto e di vederle sommate automaticamente in camera la seconda di creare delle fotografie HDR direttamente in camera. anche questa è una cosa che io faccio col bracketing perché preferisco avere pieno controllo su quello che sto facendo. Andiamo al menu 4, interval timer, questo serve a fare dei timelapse quindi nel momento in cui io vado ad abilitarlo gli posso dire che deve fare per esempio 10 scatti con un intervallo di 10 secondi. Posso andare a impostarlo ovviamente. Nel momento in cui lo abilito dopo posso andare su detail settings e gli posso dire per esempio di fare 11 scatti ogni 6 secondi. e gli posso dire quello che voglio e la fotocamera da quel momento in poi rimarrà in questa modalità fino a quando non ha terminato le operazioni. L'unico modo per fermarla una volta avviata è spegnerla se ricordo correttamente. Quindi impostiamola con cautela e ricordiamoci che la fotocamera va avanti finché non ha finito. Quindi è un'operazione abbastanza lunga che può portarci via parecchia batteria. Adesso io vado a disabilitarlo perché altrimenti mi rimane in quella modalità. Anti flicker serve per andare a eliminare il flicker che può derivare dall'utilizzo di luci con una frequenza che può andare a collidere con la frequenza in cui la fotocamera va a catturare le immagini. Vale soprattutto per il video. Mirror lock up. Questo serve per bloccare lo specchio in posizione aperta in maniera tale da eliminare l'eventuale vibrazione che potrebbe essere causata dall'apertura dello specchio stesso. Live view shoot enable. Questo significa che nel momento in cui passo in modalità live view posso scattare e vedere l'immagine direttamente a monitor come se fosse una mirrorless. Una funzione che non uso praticamente mai. Metodo di autofocus abbiamo tracking. Touch shutter. Io l'ho disabilitato. Questo serve praticamente per poter scattare picchiando il dito contro il display come se fosse un cellulare. Io l'ho tolto immediatamente perché non mi piacciono queste cose e non voglio scattare con la guancia. Io voglio scattare con lo shutter vero. Grid display. In questo caso io l'avevo tolta ma adesso la vado a rimettere perché invece è una cosa che serve. Aspect ratio. Questa serve per dirgli se vogliamo scattare in formato quadrato in 16 noni, 4 terzi o 3 mezzi. Conviene scattare in 3 mezzi perché il sensore è da 3 mezzi. Quindi qualunque altra risoluzione andiamo a scegliere è un ritaglio dell'originale. Quindi è meglio scattare con l'originale e ritagliarla dopo. Simulazione dell'esposizione. Ovviamente andremo a vedere sul display una simulazione dell'esposizione che stiamo andando a fare e non la scena vera che abbiamo davanti agli occhi. Silent live view shoot mode 1. Queste sono cose che io di solito non tocco. Possiamo andare a scegliere modalità 1, modalità 2 o disattivarlo. Quindi andiamo a scattare in modalità silenziosa o silenziosa 2 oppure andiamo a eliminare la modalità silenziosa. Sempre parlando dell'live view. Passiamo alle impostazioni di autofocus. Questo ovviamente è un menu molto complesso. Qui abbiamo una serie di scene e dobbiamo andare a selezionare quella giusta a seconda dei nostri scopi. Vedete che cambiano fondamentalmente i parametri a seconda della scena che selezioniamo. Quindi dobbiamo andare a vedere queste scene che cosa rappresentano e selezionare quella più corretta per noi. In realtà l'esperienza è la miglior maestra perché dobbiamo capire come si comporta la macchina a seconda di come l'abbiamo impostata. Vi dirò che io la lascio sempre su versatile multipurpose setting perché così riesco a fare grosso modo tutto. Non ho mai avuto bisogno di un setting più complicato di questo. Sul menu numero 2 abbiamo le impostazioni della priorità ovvero con quale priorità la fotocamera deve rimanere loccata su un soggetto piuttosto che rilasciare quel soggetto. Sul menu numero 3 l'unica cosa che io utilizzo è l'AF Assist Beam Firing. Questo significa che nel momento in cui vado a focheggiare ci sarà un lampo di assist dalla fotocamera che mi aiuterà a mettere a fuoco. C'è anche un'opzione molto interessante per avere l'infrared quindi un beam che non dovrebbe essere visibile. Nel momento in cui vado a selezionare questo quindi infrared dovrei avere un lampo di assist che dovrebbe infastidire meno i miei soggetti. Quindi questa è una cosa molto interessante. Una cosa molto interessante che troviamo sul menu 4 sono i punti di messa a fuoco selezionabili. Ora come potete vedere i punti sono veramente tanti. Noi qui possiamo decidere se avere a disposizione tutti i punti di messa a fuoco solamente quelli a croce 15 punti oppure 9 punti. Vi dirò che io mi trovo molto a mio agio con i 9 punti però nella maggior parte dei casi la tengo impostata su 15 punti. Giusto per avere un po' di versatilità in più e perché mi ricorda comunque la 7D a cui sono abbastanza abituato. Un'altra cosa che mi piace molto di questa fotocamera è la possibilità di personalizzare i pulsanti. Quindi per andare a cambiare le impostazioni dei punti di messa a fuoco io ho impostato il tasto multifunzione che quindi va a modificare le impostazioni dei miei punti di messa a fuoco. Molto molto comodo. Qui abbiamo la possibilità di proteggere delle immagini quindi di non andare a cancellarle. Possiamo ruotarle, cancellarle, decidere un ordine di stampa, creare un setup per un photobook, copiare un'immagine, processare un'immagine RAW. Queste sono tutte cose che secondo me è meglio non fare in camera. Possiamo ritagliarla, ridimensionarla, dargli un voto. Questo può essere interessante. Creare uno slideshow, trasferire un'immagine oppure possiamo decidere di quanti step è l'image jump ovvero quando noi andiamo a scorrere le nostre immagini e giriamo la rotella dei tempi possiamo decidere se vogliamo passare di immagine in immagine oppure ogni 10 oppure ogni 100. Questo è molto interessante perché a volte può essere necessario disabilitare questa funzione perché vogliamo poter utilizzare questa rotella per andare semplicemente avanti e indietro mentre facciamo vedere le foto ai clienti. Highlight alert io l'ho tolto in questo caso. su una camera come questa non mi serve perché qui so sempre quello che sto facendo. E gli f-point display qui l'avevo tolto, lo lascio disabilitato, in questo caso non mi serve. Questo serve per vedere il punto di messa a fuoco sull'anteprima della mia foto quindi in questo caso assolutamente non mi serve. Playback grid questo pure serve per vedere la griglia anche sull'anteprima, non mi serve assolutamente. L'istogram mi mostrerà la brightness e non l'RGB che mi creerebbe confusione. Io voglio vedere solo la luminanza quando vedo l'istogramma. Passando al menu chiave inglese abbiamo una serie di funzioni per quanto riguarda lo stoccaggio dei nostri materiali come per esempio la numerazione dei file, il nome dei file, la rotazione automatica nel caso scattiamo in verticale. Qui possiamo andare a formattare la nostra scheda di memoria ovviamente con perdita di tutti i dati attualmente registrati. Qui abbiamo le opzioni di risparmio energetico quindi auto power off io l'ho impostato su un minuto che è anche tanto però 30 secondi non ci sono quindi un minuto andrà bene. Luminosità del display in questo caso io l'ho lasciata su auto potrei anche metterla manuale però la lascerei a metà quindi tutto sommato credo che vada bene su auto. Color tone standard la data è una cosa più importante di quanto sembri la data io vi consiglio di impostarla con attenzione perché soprattutto se dovete sincronizzarvi con altre fotocamere può essere molto importante averla precisa. Inglese, questo lo so è un tasto dolente per molti io la tengo in inglese perché ho imparato a usarla in inglese trovo tutte le informazioni su internet in inglese e quindi passare al menu in italiano e vedermi scompaginato tutto quello che so è una cosa che mi secca molto. Se può consolarvi vi consiglio di passare in inglese anche a voi quando seguite questo tutorial così riuscite a fare le cose. Passando al menu 3 qui abbiamo video system, NTSC come sapete io non amo il sistema PAL perché io voglio i 24 frame al secondo voglio i 30 frame al secondo e voglio i 60 frame al secondo di girare a 25 frame al secondo come le telenovela spagnole mi interessa veramente poco lo so che è lo standard europeo ma mi interessa veramente poco perché i miei clienti mi chiedono cose che vanno sui social quindi 30 frame al secondo oppure mi chiedono formati che vanno magari su YouTube quindi 24 frame al secondo va più che bene informazioni sulla batteria questo mi dice quanto rimane di carica questa batteria quante fotografie sono state già scattate con questa ricarica recharge performance anzi io non so perché mi dia sempre rosso ma questa è una batteria in perfetto stato quindi non lo prendete troppo per buono sensor cleaning è qui quando vogliamo pulire il nostro sensore qui gli diciamo di pulirlo automaticamente all'accensione e allo spegnimento così gli diciamo che lo vogliamo pulire in questo preciso momento mentre pulizia manuale serve per aprire lo specchio in maniera tale da andare a fare la pulizia manualmente qui abbiamo tutta una serie di bottoni customizzabili questa fotocamera è piena di bottoni a cui possiamo assegnare delle funzioni sul menu numero 4 abbiamo il frame rate per l'HDMI qui potremmo andare tranquillamente a lasciarlo su auto perché dipende da che cosa abbiamo girato GPS settings e communication settings io non li uso perché consumano batteria però possiamo andare a impostare un GPS in modo che rimanga in memoria dove abbiamo scattato la nostra immagine e communication settings possiamo andare a utilizzarlo per trasferire dei file via wireless custom shooting mode C1 e C3 sono delle impostazioni che si trovano sulla ghiera dell'esposizione io posso decidere di andare a salvare delle scene preimpostate in maniera tale da richiamarle quando mi servono per esempio se scatto sempre in studio con le stesse impostazioni posso salvarmi a un C1 che mi ridia sempre quelle impostazioni così non devo reinserirle tutte le volte clear camera settings mi riporta la fotocamera come fosse nuova quindi mi cancella tutte le impostazioni strane che posso aver messo per sbaglio copyright information è molto importante perché io posso inserire il mio nome così dentro tutti i metadati delle foto ci sarà scritto che le foto le ho fatte io che sono state fatte con la mia fotocamera qui abbiamo una serie di opzioni sull'esposizione per esempio l'incremento di esposizione quando andiamo a modificare uno dei nostri parametri qui è impostato su un terzo potrebbe essere anche un mezzo che è come si lavorava una volta io lo lascio su un terzo perché è più comodo iso speed settings increments anche qui è un terzo qui potrebbe essere una buona idea lavorare per stop e vi dico perché perché nel momento in cui noi lavoriamo per terzi di stop ogni volta che non lavoriamo con gli isonativi quindi se lavoriamo a 100 sono isonativi se lavoriamo a 160 160 praticamente è un isonativo 100 bustato a 160 e quindi avremo più rumore rispetto che se stessimo usando gli isonativi quindi potrebbe essere una buona idea utilizzare incrementi di uno stop in questo caso bracketing sequence in questo caso io lo lascio sempre così come number of bracketed shots questo è molto interessante perché noi possiamo usare il classico tre scatti ma possiamo anche usare due scatti non so quando possa essere utile possiamo usare cinque scatti o addirittura sette scatti per i nostri scatti in bracketing quindi quando andiamo a fare l'HDR possiamo avere molte più informazioni qui abbiamo shutter speed range e aperture range possiamo dirgli per esempio che la nostra fotocamera non deve mai scattare con una esposizione più lunga di 8 secondi io questo non lo faccio lo lascio così com'è oppure possiamo dirgli che non deve mai scattare con un'esposizione più veloce di un duemillesimo di secondo anche in questo caso non lo faccio ma potremmo farlo apertura stessa cosa potremmo dire alla nostra fotocamera che non deve mai scattare sopra f22 per esempio in questo caso lo posso anche lasciare non ho lenti che vanno sopra f22 questo è un ottimo metodo per evitare la diffrazione per esempio noi potremmo dire alla fotocamera di non scattare mai sopra f16 in questo caso se stessimo scattando in priorità di tempi siamo tranquilli che anche se siamo in priorità di tempi la nostra fotocamera si fermerà sempre a f16 non andrà mai oltre al menu numero 3 abbiamo custom controls qui possiamo andare a impostare un sacco di funzioni customizzate su tutti questi bottoni io non ho mai fatto granché perché mi trovo molto bene con il tasto multifunzione e con questo secondo pulsantino qui che ho assegnato ai punti di messa a fuoco quindi non mi serve altro non li ho mai impostati veramente tutti semplicemente perché con l'utilizzo che faccio di questa camera non mi serve veramente menu numero 4 abbiamo cropping information io lo lascio off default iris options non l'ho mai usato retract lens on power off questo servirebbe se avessimo una lente che si ritrae automaticamente ma io non ne ho clear all custom functions qui possiamo andare a eliminare tutte le impostazioni customizzate che gli abbiamo dato finora menu della stella io qui come vedete non ho impostato ancora niente perché in questo caso non mi serve qui abbiamo come sempre la possibilità di crearci un menu personalizzato dove andiamo a selezionare quello che abbiamo trovato dentro nei menu precedenti andiamo a metterci qui una lista di cose che usiamo spesso in maniera tale da non doverle andare sempre a ripescare è una cosa molto comoda soprattutto se si fanno video io con questa camera non faccio video faccio solo foto non ho mai avuto bisogno di impostarmi una cosa del genere perché quasi tutto quello che mi serve è qui nelle prime due voci di menu io vado solamente a utilizzare il bracketing e magari vado a utilizzare il bip piuttosto che a eliminarlo quindi con queste due di solito faccio tutto nel caso mi servisse su altre fotocamere lo faccio mi crea un menu personalizzato dove metto tutto quello che mi serve più spesso aggiungo che nel momento in cui andiamo a rivedere delle immagini che abbiamo scattato ecco queste sono immagini che ho scattato recentemente abbiamo la possibilità di ingrandirle con la lente di ingrandimento e andare a navigarle con il joystick possiamo andare a mettere un voto alla nostra immagine con il pulsante rate quindi più volte lo premiamo più stelle gli diamo se lo premiamo un'ultima volta gli rimettiamo il rating su off possiamo andare ovviamente a cancellare un'immagine quindi nel caso premessimo avremmo buttato via questa immagine possiamo premere il pulsante info e in questo modo vediamo un po' di impostazioni di scatto per esempio vediamo che è stata scattata un duecentesimo f10 iso 100 è stata scattata in raw è il sesto scatto su 6 presente attualmente su questa memory card se io continuo a premere info vedete che mi mostra più dati tra cui la temperatura colore a cui è stata scattata che erano 5000 kelvin mi mostra il predefinito immagine con cui è stata scattata mi mostra che è stato utilizzato un flash che ha scattato mi mostra il metering system che è stato utilizzato mi mostra l'istogramma mi mostra l'ora il giorno in cui è stata scattata qui vedo anche che avevo rimosso delle impostazioni automatiche e possiamo anche vedere che il file raw pesa 32.8 megabyte quindi una foto bella cicciona un'altra cosa che vi faccio vedere è il pulsante Q nel momento in cui lo premo ho il classico menu da cui posso andare a fare tutte le mie selezioni per cui posso andare rapidamente a scegliere se voglio scattare one shot oppure se voglio scattare in i focus on o ai servo io di solito sto su one shot mi piace di più scattare così vecchia maniera qui posso scegliere il mio metering mode quindi posso andare a selezionare evaluative metering oppure partial metering oppure spot metering oppure center weighted average normalmente io utilizzo partial metering perché è quello che mi permette di fare più cose senza doverlo cambiare continuamente bene come avete potuto vedere un menu molto bello la semplicità dei menu che non è ormai proverbiale in tutto il mondo è una fotocamera assolutamente completa quando scatto con questo dinosauro a me non manca assolutamente niente preferisco di gran lunga una fotocamera come questa a tutte le mirrorless che sono state immesse sul mercato perché questa è una garanzia questa è affidabilità con questa io so che porto a casa il lavoro le mirrorless sono divertenti mi piacciono anche per carità sono delle videocamere molto migliori rispetto a questa ma per fare fotografia come esperienza di utilizzo e come grip non c'è assolutamente paragone bene amici nella speranza che questo video vi sia stato utile io vi invito nuovamente a iscrivervi al canale attivate anche la campanella così non vi perdete le notifiche lasciate un like a questo video perché se l'avete eseguito fin qui sono sicuro che adesso sapete usarla molto meglio questa fotocamera e io vi do appuntamento al prossimo video